Ti ha fatto male il vaccino? No Cosa hai sentito? Ma proprio un piccolo pizzico di cui ti dimentichi subito Hai detto come una zanzara? Sì Un grande applauso Non ho fatto tanto male Era come una zanzara che ti funge sul braccio Sei contento di averlo fatto? Sì Spero di fare presto la seconda dose Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a credere nel vaccino? Beh, a parte le motivazioni scientifiche di cui posso godere e di cui ho approfittato informandomi Un grandissimo entusiasmo per poter finalmente far vivere ai bambini una vita normale E anche soprattutto il loro entusiasmo Hanno visto il terrore delle prime settimane La stanchezza, le preoccupazioni E quindi poi anche la relativa gioia Quando in casa si parlava della possibilità che sarebbe arrivato questo vaccino Quindi magari le notizie arrivavano un po' prima E si sapeva che nell'aria c'era l'arrivo del vaccino E quindi hanno proprio vissuto questa fase, diciamo, questo sbocciare dalla disperazione Dal buio alla luce E quindi il fatto che oggi tocca a loro Per loro è un momento importantissimo E hanno già fatto anche promozioni a scuola con i loro compagni Facendogli formatori scientifici, diciamo Quindi, no, devo dire, un momento molto importante Anche per noi è un grande sollievo Per potergli appunto fare una vita normale Dallo sport ai contatti sociali Ecco, a proposito di promozione da mamma Che messaggio si sentirebbe di rivolgere a un genitore Che invece magari ha qualche dubbio Ha delle paure legittime Che messaggio si sentirebbe di mandare? Ma le paure sono legittime E' importante informarsi dalle fonti corrette E' importante ricordare che senza vaccini Oggi non saremmo qui Ci sono dei vaccini importantissimi Come il morbillo Il meningococco Che salvano le vite E questo vaccino ci permetterà Di vivere veramente con serenità Questo lungo periodo che ci aspetta Ancora di oppressione Quindi informatevi dalle fonti corrette Fidatevi della scienza E' un momento storico Noi stiamo completando Il lavoro di messa in sicurezza Della vita e della salute dei cittadini piemontesi Sono 240.000 circa i bambini 5-11 anni nella nostra regione Noi abbiamo aperto Prima in Italia Venerdì le preadesioni Venerdì scorso Sono già 17.000 i genitori Che hanno iscritto i propri figli E ad oggi Già la metà di queste persone Di questi bambini Sono stati chiamati A non appuntamento Vaccinarsi a quest'età Ha un rendimento molto più elevato Rispetto a vaccinarsi alla mia vita E soprattutto poi abbiamo visto Vaccinarsi agli 80 anni Purtroppo è un qualcosa Che funziona un po' meglio Cosa voglio dire con questo? A parte le considerazioni che faccio dopo Lasciamo un'eredità di protezione A questi bimbi Magari rinnovabile Che è molto più efficace Di quella che potremmo generare avanti Nella loro vita